Grazie Presidente, molto velocemente. Innanzitutto ringraziamo il Consigliere Filomeni per un atto importante, però un atto che di fatto abbiamo come tema, chiaramente quello sulle aree cani già discusso e sviscerato nella Commissione Ambiente di due settimane fa circa e abbiamo tratto delle conclusioni positive perché siamo usciti da quella Commissione, il Consigliere Di Eprimo lo può confermare con la volontà di modificare la delibera sulle aree cani, la possibilità di sponsorizzazione, di creare un'area cani tipo con tutti i crismi, fatta in modo impeccabile e anche in modo che possa in qualche modo dare la possibilità di riprendere quella tipologia di aree cani che l'amministrazione vuole creare. Perciò insomma abbiamo intrapreso un percorso positivo di grande cambiamento e lavoro sul tema delle aree cani. Perciò insomma chiediamo al Consigliere Filomeni, qualora volesse chiaramente collaborare con la Commissione Ambiente, di poter appunto chiedere al proprio collega di poter partecipare la prossima volta a un'altra Commissione per poter fare il punto definitivo su questo tema. Perciò ecco purtroppo la maggioranza oggi è costretta a astenersi su questo atto pur condividendolo diciamo nella forma e nel contenuto. Grazie.